la fortuna è dalla nostra parte non c'è nemmeno sfida sapete cosa dovete fare non è possibile un agente sta per lasciare la squadra non c'è nemmeno sfida non c'è nemmeno sfida allarme un agente sta lasciando la squadra buonasera a tutti signori rieccoci tornati nel torneo di the division siamo alla finale una delle finali la loser bracket come avete immaginato sto ancora cercando di entrare nel server perché sono crashato poco prima di iniziare quindi alla grande intanto ci prendiamo un po' di tempo per vedere a che punto stanno le due squadre vediamo se Dante non mi chicca no mi chicca ok perfetto allora vi faccio vedere intanto le due squadre come stanno messe se ve le presento allora vediamo un attimo di fare la magia come sempre eccoci allora quindi come detto siamo nella finale della loser bracket quindi siamo quasi alla fine chi vincerà stasera si sconterà contro i pink brothers nella finalissima del torneo quindi abbiamo da una parte prima ondata che hanno avuto un percorso netto fino alla finale contro i pink perdendo 3 a 0 ma hanno sempre vinto 3 a 0 quindi diciamo che niente tutto così i supremacy flamer dall'altra parte invece hanno avuto un percorso ottimo fino al turno 3 sono scesi nella loser bracket al turno 3 appunto vincendo poi contro i taxi in action 3 a 0 contro i chronos 3 a 1 e adesso si trovano in finale appunto contro i prima ondata allora riproviamo un attimo nel frattempo a rientrare sperando che ci riusciamo vi faccio rivedere il mio cadavere ok mi chicca mi chicca che bello che bello allora intanto li smuto anche nel party così comunichiamo anche con loro signori buonasera dante va male mi stai chiccando per un motivo non riusciamo a entrare eh sto ritardo è dato purtroppo dal server abbiamo avuto problemi a trovare il server come sempre raga sento soltanto c'è smutato no 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 io vi sento tutti ragazzi ma perché mi aggiano in uso di io ci io vi sento il microfono spento non mi ha chicchiato quindi ci siamo buonasera a tutti ah no no andrea piccato mi stavano attaccando mannaccia abbiamo cambiato tutte e due sì perché mi stavano attaccando i mobi allora fa una cosa fa una cosa cambia server tu sì no no io esco proprio e io mi faccio così e io mi faccio no chiudo proprio all'applicazione così puoi entrare dici che funziona così eh sì perché io levo il posto cioè ho tolto completamente un posto se chiudo l'applicazione ah ok credo di andare veloce a farti invitare spero invito a blecca in parte lo deve invitare Matti per se penso sì così proviamo sì invito subito allora aspetta che intanto mi sgruppo da te ce la faremo eh invito pure Gianni almeno abbiamo due che passano a invitarti almeno il primo che arriva sì quindi da venerdì prossimo e come vi si accede ah il pts sì sì il pts sarà la prossima settimana black invitami tu per piacere che Dante è uscito così prende il posto suo perché se no non iniziamo mai invito subito sì domani alle 10 inizia pts su pc su quanto all'indicione io l'ho invitato si aspetta che accetto niente cambia serie no qualcuno ha già preso il posto di qualcun altro sono solo soletto vedai per ingannare l'attesa Ale ci mi racconta una barzelletta vai barzelletta vai a me no un attimo no la dico mi parte troppe cose io Ale 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 la barzelletta Ale non fai dire barzelletta eh non mi funziona dopo pezzanotte posso dire le barzellette io ma perché non mi funziona la super sto da solo e non mi funziona la super via del riamino bah non mi ha cambiato a me black non so a te a me sì mi sta cambiando allora chicchami non inizieremo mai questa sera mi diamo ad americo di non disturbarmi che sto guardando la live chi sarà mai androx mi cambia ti prego join Andrea ti prego stasera è tosta eh stasera è al pari dell'altra finale penso no secondo me secondo me è peggio dell'altra finale sto sudando di più fa più caldo ok 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 ci sei ci sei ci sei ci sono mi dicono che l'agra live è possibile qualcuno me lo conferma un po' sì ok aspettate un secondo dimmi quando ti è trasferito così sì sì a me mi sta trasferendo black sta entrando vabbè una volta che è così io avvio la live alla playstation sull'applicazione allora io non ho sì io non ho nessun drop nella cale di frame ora va bene ok infatti perché non avevo nessun drop quindi penso che adesso dovrebbe andare bene ok finalmente siamo riusciti ad entrare black e vuoi sgrupparti e andare di là a un po' di ritorno ciao black e un boccano andrea inutile che entro perché tanto la stiamo seguendo tutti quanti dallo scherzo la live quindi qualsiasi cosa ne parliamo perfetto tutti grandi allora meglio ok perfetto sì c'è modo di abbassare la live allora aspettate mi metto l'impulso allora ragà siamo pronti sembra che ci siamo allora vediamo che abbiamo a sinistra alla sinistra abbiamo i supremaci e a destra bene prima ondata vi ricordo che quindi la semifinale è la finale della loser quindi sempre al meglio si parte primo round ciao ragna e devi spostarti più sull'audio del parte se vuoi sentire noi o più audio allora vediamo superamaci subito che si portano sotto di me abbastanza aggressivi mentre in prima ondata non hanno capito che si parte o forse si non l'hanno sentito sono fermi lì partono ragazzi siamo andata no è lo stesso non fermi aspettate un secondo mi sta scrivendo ci siamo ma io ho già ho già mandato la aspettate va aspettate aspettate che mando indietro di supremaci ok non erano attenti prima ondata eh raga fate attenzione quando lancio la flashback ok ok di nuovo tutte e due le squadre pronte ci siamo primo round vediamo se parte il nostro giro si ok prima ondata ci sono i supremaci anche aggressivi supremaci sono subito qui davanti primo scontro a fuoco vediamo che c'era GR tutto da solo davanti solito lag per tutti noi speriamo che per loro sempre vada vada bene meglio che a noi vedo granati si innescate da parte di prima ondata molti con i meglio che fa il suo dovere prima ondata si spostano sotto il tendone con i supremaci molto aggressivi che li seguono da vicino stiamo scontrando lì sotto purtroppo da qui non vediamo niente vediamo se riesco a spostarmi un pochino ok vediamo sempre i supremaci qui fuori attenzione scioccati entrambi scioccati entrambi streaming sotto fuoco viene subito sovracurato ottimo ottimo lavoro del tattico da parte dei super blu super blu per i supremaci usciano non vediamo niente super di risposta da parte di prima ondata io mi affaccio sperando che non muoio vediamo lo scontro che si sta svolgendo qui sotto il capo noi ancora una volta scioccati super del danno ottima da parte di prima ondata che buttano giù hit che a terra non riescono a rianimarlo Rick torna indietro ancora sotto sotto il fuoco nemico è ancora giù streamy 4 contro 2 adesso in prima ondata molto aggressivi si portano su un vantaggio adesso è Cavallaro è sotto il fuoco Rick è giù Rick è giù 4 contro 1 Cavallaro cerca di fare il massimo ma non ci riesce primo round prima ondata ottimo primo round di prima ondata che hanno sfruttato bene sia la shock che la super dei danni no tipettino non c'è stasera allora vado a dare un'occhiata di fronte al posto di blocco se non mi incastro è meglio ancora ah sta uscendo anche un po' il suore in zona nera ma meno male se stavo uscendo dalle due parti vuol dire che c'era qualcosa che non andava eh perché io gioco dai caraibi direttamente dall'altra parte del mondo ecco perché faccio lag a tutti ragnara farei mai rai di rainbow non lo so non lo so è un gioco che mi stuzzica vedremo finito il torneo poi ci saranno un sacco di novità sul canale allora naturalmente le due squadre si scambiano al posto vediamo i supremati che si portano a parte destra mentre a sinistra adesso ci abbiamo di prima ondata ok mi sembrano pronte secondo round 1-0 prima ondata cioè in chat si litigano a momenti diciamo che al momento sono ancora sono ancora diciamo siamo ancora lì dai state buoni chat state buoni e nel frattempo hit in animato black ha ucciso cavallaro io mi sentiamo persi una kill ci siamo persi sono andati subito in vantaggio 4 contro 3 mi sono perso la kill non ho visto come sono morti come è morto cavallaro anzi vediamo che in prima ondata adesso fanno il giro si ritrovano alla parte sinistra del lo scontro scioccati ancora una volta ricce vediamo se lo prendono di mira no non ci sono riusciti gran casino adesso faccia a faccia si scontrano le squadre che xario grande grazie per il follow ben arrivato vediamo ancora che si scioccano vicendo sono entrambe le squadre sull'immunizzante faccia a faccia un po' confusionario adesso vediamo se qualcun altro va giù se i suprema si riescono a migliorare la situazione del 3 contro 4 hit va giù hit va giù 4 contro 2 adesso un ottimo focus da parte del primo ondata ho visto scendere la vita ma che ricca è giù si trovano ancora in vantaggio 4 contro 1 e streamy anche va giù secondo round sempre prima ondata non uccidono nessuno quindi 4 a 0 diciamo così i ragazzi vogliono essere uccisi e io non mi esigno magari se prendo l'arma giusta è meglio e 1 e 2 e e 4 ah busto le kill esperienza tutto spiano adesso vi rubo anche tutto giocano con le sacchette prima ondata vediamo che c'hanno qualcosa di interessante vai col medikit Andrea vai col medikit si 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 subito il medico ti ha fatto la prescrizione il medico il medico da campo subito il medico a Dante subito ti ha fatto la prescrizione allora le consiglio un medikit mattina e sera dopo i pasti soprattutto quando ruba i supremi si sono già in campo booster gaming potrei cambiare comunque è vero hai preso una 70-80 kill questa torneo 70-80 non lo so alla fine del torno mi riguarda le live ve le contiamo così me le faccio togliere le division tracker faccio un esposto ecco che eravamo in prima ondata c'è uno nel timer quindi ci vuole un po' più di tempo Supremasi in difficoltà comunque devono cercare di ribaltare un po' la situazione per cercare di portarsi a casa almeno un round ok le squadre sono in posizione si si parte primo match point per la prima ondata che si stanno su 2-0 allora vediamo se si fanno ancora una faccia a faccia e mi sa di sì si scontrano proprio qui sotto guardate che aggressività ancora i primi ondata molto aggressivi diventano rogue quindi il primo colpo è loro sono scioccati sono anche a fuoco attenzione a E-hit che era molto focussato blue per quanto riguarda i Supremasi che adesso hanno più resistenza vediamo se pushano un pochino rispondono anche con la blue i primi ondata si ritrovano di nuovo faccia a faccia vediamo se qualcuno delle due squadre userà la gialla per contrastare le super sembra di no no nessuno delle due squadre la usa quindi corrono in cerchio e invece no invece no la usano gli Supremasi ma non nella maniera ottimale mi sa che qualcuno è sceso no in realtà no l'ho ripreso con la super io non ho visto nulla non mi è comparso niente in basso grazie a questo fantastico gioco che ci ha regalato la Massif contro molto acceso comunque sempre faccia a faccia nessuno delle due squadre usa le coperture se sia una black che ha poca vita riesce a sfuggire no entra da gente 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 stop 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 eh Andre ti conviene scendere e metterti fra di loro l'unica cosa che puoi fare io sparo sparo fermi 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 fermatevi cazzo ok prima ondata si sono fermati a posto buttare una flashbang in mezzo eh l'ho tirata l'ho tirata ok niente niente mannaggia demonio gente malefica vieni qua non posso neanche scrivere i no perché sono rogue sti qua aspetta no 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 non voglio morire ma guarda Deo ma va me ne chiamano eh aspetta vediamo se riesco a recuperare il nick questi qua boost for life eccolo no invita no l'ho pure invitato pensate che idiota si è allontanato ho perso eccolo invece qua ah che caldo purtroppo il terzo round è stato rovinato da questi tedeschi tedeschi ragazzo tedesco allora vediamo se capisce l'inglese il tedesco ormai c'ho sta frase proprio cioè salvata da non so quanto tempo uno che si chiama booster for life booster for life ci si può aspettare il pace ciao bico grande è arrivata gosse che dici ci vuoi pensare tu ti metti una super del danno ma gosse mettiti davanti facati di guardiano un'altra volta che non farò mai più il butto fuori nonostante sei due metri nonostante sei due metri vedi ok sorry perfetto hanno capito possiamo tornare posizione sono tutti i rog nel frattempo alla grande come faccio a farglielo capì? facendo il mic drop capite se faccio così? no sapete che vuoi far vedere che hai scioppato vabbè eh ho scioppato una cosa ho scioppato non ho mai comprato niente su sto gioco perché gli abbiamo regalato già troppi soldi una cosa ho scioppato è questa dai fa figo stasera stasera ho comprato una skin zaino e praticamente non la trovavo 5 euro e non la trovavo certo una skin zaino 5 euro stavo bestemmiando lingue ormai sconosciute ho aperto un ticket per addirittura per avere per avere assistenza alla fine mi sono accorto che invece di comprare una skin zaino ho comprato una skin arma però nel frattempo ho mandato il ticket alla Ubi e quindi adesso ti rimborsano i soldi e avrai una skin arma gratis oh mi risponderanno c'è un mongolo io penso di più la terza che non si può dire però non è un mongolo il bestemmio no che sta a fare cioè io adesso vi vorrei far vedere uno perché non ho la web chiama ma e ci la faccia al giorno vabbè c'è gente a casa che è venuta a vedere la finale e si è spostata il divano sotto il mio monitor davanti al mio monitor e quindi ho oltre oltre a voi che siete in live c'è anche gente a casa quindi adesso dovrò fare il biglietto hanno pagato i 4 euro non lo so chiedo avete pagato i 4 euro di iscrizione al canale 12 euro 12 euro addirittura hanno portato la marijuana ma hanno portato la marijuana no costi no siamo in fascia la droga allora vediamo se sono in posizione le due squadre me ne manca una a sinistra probabilmente servivano i medikit vediamo la prima ondata ci sono mi vado a facciare che magari non li vedo tutti in piedi sul divano divano anche risultati divano è mio no raga ce n'è dal divano eh no l'usì grande divano nuovo ci sarà il countdown divano nuovo ok squadre in posizione quindi riprendiamo dal 2 a 0 match point per la prima ondata io spero che le super siano tornate perché l'hanno spregate purtroppo vediamo un po che si tireranno appresso sto giro qualche cassa allora vediamo su prima ma si è sempre aggressivo qua non stanno cambiando tattica si rincontrano sempre qua nessuno delle due di nuovo non sfrutta nessuno è banconato io pensavo di farvi un favore a usare sto posto per fare il torneo ma in realtà non frega niente a nessuno sono i detreggiati i supremaci li sono presi granate in faccia e hanno deciso di intreggiarsi probabilmente perché non hanno immunizzante carico ecco infatti c'è adesso lo mettono giù un po' di copertura adesso le usano entrambe stanno dietro le coperture la shock non prende nessuno fanno scoprire l'immunizzante e si spostano entrambe le squadre vediamo i supremaci che li inseguono da dietro aggressivi i supremaci adesso cercano di busciare i trovi dentro ancora si ritrovano un'altra volta faccia a faccia qualcuno dei dei primi ondata usa il mida perché li vedo col simboletto di mida tutti scioccati tutti scioccati una bella stun in centro tutte e due le squadre sono scioccate granate gran casino come al solito nessuna super fino adesso vediamo qualcuno che si stacca dal gruppo è rich che torna attenzione lo shock lo shock per prima ondata lo sfruttano no non lo sfruttano forse si black attenzione a poca vita no torna di nuovo sovracurato quasi quasi sposta dal gruppo deve stare vicino ok vedo i supremaci un po' fermi attenzione rich è fermo e va giù black anche poca vita usano una super del rianimo per riprendersi la vita 4 contro 3 adesso yotta quello fermo ok 4 contro 3 di nuovo i supremaci in svantaggio vediamo se riescono a portare la situazione quantomeno in parità attenzione stream e fermo lo fanno fuori 4 contro 2 super blu super blu dai prima ondata se lo vogliono portare a casa senza problemi infatti anche hit è giù anche hit è giù di nuovo 4 contro 1 rimasto da solo cavallaro cavallaro è da solo così dietro nessuna copertura può far poco e va giù 3 a 0 prima ondata applausi dalla platea quindi ufficiale di nuovo la finale sarà come quella della winner bracket prima ondata pink brothers e mi si rincontra andriamo andriamo ti vengono a fare il popo a me ma eh guarda eh aspetta ah non ho la super ma se io attacco per primo che dite eh poi se vuoi che ti risparmiano questa volta vediamo io black provo a portarmela a casa mettiti una bella cura del danno e bacino eh non ci sono le super una cura del danno una cura del danno poi la cura la cura vuole dire di questi e muori per tutte le cose che fanno parte del repacco offensivo con me tutta quella che è offensiva con me non va bene eh allora non mi spazio posso così alla grande ok ah si mi entrava aspettate che vedo impito black pure ciao streamy comandata ciao che non verrà fuori il problema da fine guardati che sei live giocati live sì sì tranquillo ci vuoi raccontare un po' comandata ma sono stati più bravi ciao black complimenti hai prima ondata grazie grazie ragazzi complimenti anche a voi complimenti anche a voi e comunque la serifilana peccato per quel terzo round disturbato sì vabbè io mi sono messo in mezzo sono quelli che è successo ragazzi no più che altro spero che non abbiano rovinato le super ho visto che l'avete usate quindi penso di no che l'avete recuperato un po' no ma tanto avevamo tirato il danno ma avevamo tirato giù neanche uno di loro quindi alla fine la super rovinata cioè l'avevamo usate figurati no niente da recriminare c'è un po' di laggi come sempre però sono stati più bravi basta spero che abbiate fortuna in finale grazie mille complimenti per tutte le altre partite anche a voi fino ad arrivare fino a qui vuol dire che siete forti forti anche voi non era facile non era facile no ci sta oh grazie per interneo per tutto quanto grazie ma i scherzi grazie a voi per aver partecipato grazie a voi grazie grazie e niente buona buona continuazione ragazzi grazie ci si becca in zona nera ciao 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 grazie a voi ciao allora andiamo ad aggiornare il tabellone in diretta andiamo un po' se faccio la magia ancora tac quindi 3 a 0 vittoria netta tante vittorie nette io mi aspettavo fossero un po' più combattute soprattutto nelle finali in realtà non è stato così la finale sarà al meglio delle sette quindi in realtà il primo che arriva a 4 vincerà vincerà quindi come vedete si riscontra un'altra volta Pink Brothers contro la prima ondata e la finale sarà penso comunque in settimana ancora non ci siamo messi d'accordo con nessuna delle due squadre ma lo faremo presto eccoci e quindi niente come al solito vi ricordo di seguirmi sulla pagina facebook mia e dei ragazzi d'elite per avere informazioni sul torneo per la finale e niente a posto così io vi saluto è stato un piacere buona serata a tutti ciao 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 a tutti raga ciao ciao ragazzi